Ciao a tutti, prima di iniziare la recensione su Edward Mani di Forbici e su Big Ice volevo fare una piccola presentazione sul canale e soprattutto mia facendo un piccolo racconto mio e soprattutto di quelle che sono magari le domande principali e le curiosità principali che ho e le domande che mi sono state poste da quando comunque sono stato appassionato di cinema iniziando un po' brevemente su quello che deve fare questo canale questo canale è un canale di cinema di spettacolo il martedì e giovedì e lunedì sarà dedicato le novità sul canale o all'inserimento dei DVD o dei film che ho visto magari a fine settimana o altri giorni al cinema e quindi sarà un piccolo epilogo sui miei pensieri dedicati a questi film è il martedì e giovedì, il mercoledì e il venerdì su Instagram ma vedremo anche sulla pagina YouTube sarà presente una rubrica dedicata invece alla filosofia e all'intelligenza artificiale materie che io studio e alla quale sono molto appassionato volevo iniziare a parlare della mia passione per il cinema innanzitutto mi presento, sono Alessandro Picciao, sono sardo, sono un ragazzo sardo è più o meno da tutta la vita la passione del cinema sin da piccolino i miei genitori mi portavano al cinema a vedere vari film io mi ricordo, tra i primi ricordi che ho è Man in Black di Will Smith mi ricordo assolutamente Titanic film ormai che ho visto tanti anni fa, che ho visto tantissime volte e quindi più o meno i ricordi che ho del cinema, della mia passione del cinema sono più o meno di tutta la vita poi a un certo punto ho deciso di iscrivermi in scienza della comunicazione e quindi di dedicarmi alla comunicazione, allo spettacolo in questo caso anche al cinema perché abbiamo una materia ma anche altri corsi dedicati direttamente al cinema di dedicarmi comunque in maniera un po' più approfondita al cinema e questo è più o meno il mio racconto ho tantissimi DVD e ho visto tantissimi film al cinema infatti lo metterei anche tra le curiosità della mia passione per il cinema tra le altre curiosità io comunque conservo sempre biglietti che poi molte volte catalogo e poi inserisco nella mia collezione non li ho in realtà mai contati ma credo che siano veramente tantissimi tra le tante altre passioni a volte prendo anche i poster dei film che preferisco e a volte mi faccio fare anche le magliette dei film c'era un periodo dove magliette di film dedicate ai film come il padrino come Scarface ne avevo varie non so esattamente adesso che film abbiano fatto qualcuna sono riuscito a ritrovarla e altre non le ho più ritrovate i miei registi preferiti sono in assoluto direi Marti Scorsese Tim Burton Tim Burton veramente lo adoro mi piace tantissimo tutto il suo stile e tutto il suo modo di fare cinema amo tantissimo come regista anche Tarantino Tarantino mi piace tantissimo come regista non essendo comunque più una sorpresa ormai il suo stile in ogni modo comunque mi sorprende sempre in ogni film perché ogni film aggiunge sempre un pezzo di novità un pezzo dell'incredibile suo stile del suo incredibile stile e soprattutto negli ultimi film l'ho apprezzato tantissimo perché non parla più di against the movie e neanche di violenza come posso dire di una violenza più moderna anni 70-80 ma parla dei film western quindi il contesto dei film western poi inserisce comunque delle storie alla Tarantino e questo concetto l'ho amato tantissimo perché io i film western li guardo molto spesso anche per rilassarmi perché hanno tempi molto lunghi e quindi aiutano diciamo al rilassamento i miei attori e attrici preferiti inizio dagli attori i miei attori preferiti perché non esiste uno sono Leonardo DiCaprio come ho già discusso in un video precedente Russell Crowe sicuramente lo metterei tra i miei attori preferiti l'ho amato veramente tantissimo soprattutto perché nei film che ho interpretato ci sono vari film tra quelli che metterei come i miei film preferiti come Master of Commander e Gladiatore e quindi sicuramente lo metterei tra i miei attori preferiti un altro se non il mio attore preferito in assoluto direi che è Tom Hanks Tom Hanks io l'ho visto veramente in tutte le salse infatti probabilmente anche a lui dedicherò delle puntate una puntata specifica per raccontare questo incredibile attore che ho seguito dai suoi primi passi con vari film come per esempio Forrest Gump ma l'ho apprezzato anche in film come The Terminal Salvatessoratoi Ryan Mr. Benz veramente l'elenco dei film di Tom Hanks potrebbero essere tantissimi ad esempio mi è venuto in mente anche Cast Away Cast Away l'ho visto una miriade veramente di volte l'ho visto veramente tante tante volte invece come attrici preferite sicuramente inserirei Scarlett Johansson Scarlett Johansson o vari film di Scarlett l'apprezzo da tanti punti di vista sia le capacità attoriali che come donna come donna è una bellissima donna ma assolutamente non sto dicendo una novità perché penso che sia una delle attrici più pagate se non l'attrice più pagata di Hollywood e l'abbiamo apprezzata in tante parti in tanti film però con diciamo una sorta di una sorta di io noto che nei film di Scarlett Johansson Scarlett è comunque molto riconoscibile e non è diciamo una attrice troppo o molto eclettica come può essere un Leonardo DiCaprio che in ogni film diciamo quasi interpreta ruoli differenti Scarlett Johansson nei suoi film interpreta delle parti che si differenziano però hanno sempre un qualcosa di comune infatti se notate se in questo momento io facessi dei frame della faccia delle espressioni di Scarlett Johansson sarebbero molto similari comunque la adoro tantissimo e se non la mia attrice preferita è una delle mie attrici preferite un'altra delle mie attrici preferite è Eva Green Eva Green la amo tantissimo perché invece lei ha una capacità attoriale incredibile lei secondo me solo con lo sguardo che è secondo me la peculiarità principale di Eva Green lei solo con lo sguardo riesce a catturare lo spettatore l'ho amata tantissimo in Miss Pellegrin per esempio mi è piaciuta veramente molto un altro film che vi consiglio di vedere di Tim Burton dove lei soltanto con degli sguardi perché ha degli occhi incredibili molto molto espressivi riesce a comunicare ogni stato d'animo della direttrice di questa casa che è anche la responsabile dei bambini comunque probabilmente dedicherò una parte della rubrica cinema e spettacolo a concludere la serie dei film dedicata a Tim Burton ci sarebbero comunque tante altre curiosità comunque per fare più corto questo video le rimanderei ai prossimi video concludo questo video di presentazione rimandandovi ai video successivi successivi alla visione del canale che ripeto è dedicato al cinema e allo spettacolo in maniera comunque molto ricreativa molto varia e soprattutto discretamente personale vi ricordo che comunque io faccio delle piccole recensioni ma comunque sempre punti di vista personali e anche abbastanza con una certa leggerezza diciamo nel senso che comunque cerco di passare la mia passione per il cinema alle persone agli spettatori che mi ascoltano io non ho fatto probabilmente approfondendo il discorso del cinema e dello spettacolo magari molto probabilmente farò dei corsi e mi dedicherò alla scrittura e comunque molto probabilmente migliorerò la mia tecnica video ma comunque per adesso non ho fatto tantissimi corsi e quindi e quindi molto probabilmente molto probabilmente dedicherò comunque questo spazio a un approfondimento personale alle domande e alle visioni dei film vi chiedo assolutamente se avete dei dubbi se avete delle proposte di allegarle alla visione di questo video ai commenti sia su youtube che su instagram e vi ringrazio e vi passo vi ripasso al video successivo che sarà dedicato alle recensioni buona visione